Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, il trasporto pubblico in città per la giornata di oggi, primo maggio, previsto il potenziamento del servizio anche per agevolare gli spostamenti di quanti parteciperanno al tradizionale concertone che quest'anno non sarà a San Giovanni ma al Circo Massimo. Sospesi i lavori serali sulla linea A per la giornata di oggi, tutte le metropolitane prolungheranno il loro orario di servizio con le ultime corse da capolinea a 1.30 di notte. Orario festivo per bus e tram, chiusure al traffico nell'area del Circo Massimo dove dalle 21 proprio per il concertone sarà chiusa la stazione metro. Dettagli e aggiornamenti su romamobilita.it